Diciamo che quando una squadra ha pressione e le cose iniziano ad andare nel verso giusto, insomma quella pressione da ti può aiutare. Questa pressione, chi mi parlavi te, inizia la partita e le cose non dovesse andare bene, questa pressione ha un risultato negativo. Teramo non gioca mai in base a cosa fanno gli avversari, noi abbiamo iniziato dal 18 luglio a giocare il 4-3-3, continueremo a giocare con il 4-3-3, un po' più alti, meno alti, i trattaccanti rientrano di più, rientrano di meno, una diagonale più lunga, una diagonale più corta, cioè cambiano le situazioni in base agli avversari, però il modulo iniziare è sempre 4-3-3. Ma non è un errore singolo, è un errore, io ho contato in quella situazione 5 errori, dalla partenza del fallo laterale, che non dovevamo fare quella roba lì, dalla disposizione nostra, da una nostra disposizione non a mezzaluna per circolare palla, da una postura del corpo dei quattro difensori non a posto, dalla traiettoria di partenza della palla, che è in orizzontale, non giusta. Se la squadra esegue esattamente la lettera, quello che si è preparato in settimana, per un unico obiettivo, per raggiungere la vittoria, e che poteva essere, abbiamo giocato con una squadra, faccio un esempio, abbiamo giocato contro una squadra fortissima, e ci siamo difesi tutta la partita, tutta la partita, in qualsiasi modo, tutti con sacrificio, non abbiamo fatto tre passaggi di seguito, al 92esimo una pallina attiva e facciamo gol. Si è preparato la partita in quel modo, e quindi la squadra è giocato bene. Se noi giochiamo, cioè noi dobbiamo fare esattamente quello che serve per vincere la partita, noi ci alleniamo per quello. Lo so che è uno spettacolo il calcio, ma personalmente mi diverto solo quando porto punti a casa. Ho visto molto bene Renate, però la San Manetese non mi è dispiaciuta assolutamente, e poi conosco il loro allenatore, non di persona, ma lo conosco perché l'ho seguito, sia da Gubbio, poi a Bassano. Secondo me è un allenatore che lavora molto sull'organizzazione di gioco, e io ho visto una squadra, a parer mio, poi voglio dire, ognuno ha il suo giudizio. Secondo me è una squadra organizzata, una squadra che sapeva sempre cosa fare, per di più quando ho preparato il video, quando preparo il video, prendo quattro o cinque azioni che hanno una loro ripetitività di seguito. Quindi loro hanno quattro o cinque giocate e fanno sempre le stesse. Io quando ho un avversario che lavora molto sull'organizzazione di gioco, insomma, faccio sempre molta attenzione.